Si tratta di uno spin-off prequel dell'Immortale Capolavoro, Una Nuova Speranza di George Lucas. È, senza ombra di dubbio, uno dei migliori capitoli, in questo caso non canonici, insieme a L'Impero Colpisce Ancora, Una Nuova Speranza e Il Risveglio della Forza. Dietro alla macchina da presa troviamo Gareth Edwards, già noto per aver diretto i buoni Monsters e Godzilla, che riesce a donare alla pellicola un tocco decisamente professionale ed avanguardia. La regia di Edwards è snodata e ampia di movimenti di macchina splendidi, anche se agevoli. Possiede inquadrature ricercate e si denota uno studio curato di ogni singolo dettaglio. La sceneggiatura è a dir poco geniale, poiché colloca la pellicola esattamente tra il terzo e il quarto capitolo della saga. È scritta a modo, con un caratteristico sviluppo e descrizione meticolosa e psicologica dei personaggi. È provvisto di colpi di scena ben inseriti che entusiasmano lo spettatore. Si denota un forte cambiamento di scrittura. In questo caso, la pellicola essendo scollegata canonicamente dalla saga, non presenta i famosissimi titoli introduttivi a scorrimento. Il cast artistico è totalmente nuovo. La caratterizzazione dei personaggi è ben costruita. Jones si rivela adatta nell'interpretare l'eroina che salva la situazione. Luna è perfetto. Middelson un più che distinto villain. Michelson fenomenale. È un Tudic in motion e performance capture godibilissimo nella parte della componente robotica. Inaspettato e dilettevole la piccola comparsa di Darth Vader, nuovamente doppiato dallo storico James Earl Jones. La fotografia è stellare e decisamente ben coniugata tra il vivido acceso e al cupo vero e proprio. I colori sono giocati spesso sul dark, con composizioni di inquadratura molto affini a dipinti, con ambientazioni quanto basta impressionanti ampie e cupe. Le luci e le ombre hanno un ruolo fondamentale, facendo provare anche allo spettatore le emozioni che provano i personaggi. La fotografia viene, in post-produzione, desaturata per donare quel tocco di oscurità che alleggia nell'atmosfera della pellicola. Gli effetti speciali in CGI sono eccellenti, non invadono prepotentemente la pellicola, ma si mescolano benissimo con quelli in artigianale. D'altronde, quando si parla di Star Wars, gli effetti speciali sono sempre encomiabili. Il montaggio è rapido e serrato e riesce a far rimanere lo spettatore incollato al sedile del cinema per tutto il tempo. È un montaggio che arriva subito al sodo, non facendo aspettare lo spettatore. Il ritmo, veloce, comporta sequenze d'azione e sequenze d'avventura ben coordinate e adrenaliniche. Insomma, non ci sono momenti morti, ma un intrattenimento come quello di una volta, riportando nostalgia ai cari e vecchi fan della saga. La colonna sonora di Giacchino, inizialmente che doveva essere di Desplat, dona alla pellicola un'atmosfera molto misteriosa e ignota, e accompagna degnamente le meravigliose sequenze. C'è da dire che non è molto memorabile, ma comunque molto accattivante. Le location sono ideali e appropriate al film. In conclusione, Rogue One si rivela essere un prodotto spettacolare che ha saputo soddisfare le aspettative iniziali, i piccoli pregiudizi e scetticismi, risultando un prodotto d'azione fantascientifica coi fiocchi, che raramente si è riuscito a vedere in questi anni nelle sale cinematografiche. Voto 10.